Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e attraverso le tegole lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù, nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede disse, «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo, «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio soltanto?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose, «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire, ti sono perdonati i tuoi peccati? Oppure alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te, disse al paraditico, alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro e presse il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio, pieni di timore, dicevano, «Oggi abbiamo visto cose prodigiose». Parola del Signore Sia lodato Gesù Cristo Nel Vangelo della Messa di oggi San Luca ci dice che Gesù giunse a Cafarnao e subito sedeva insegnando in una casa. Attorno a lui si accalcava una grande folla, farisei, dottori della legge, uomini venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. Anche quattro amici del malato si diressero verso quella casa portando un paralitico, ma non poterono arrivare fino a Gesù a causa della folla. Perciò i portatori del paralitico salirono sul tetto della casa e calarono il lettuccio su cui giaceva l'ammalato nel mezzo della stanza davanti a Gesù. L'Apostolato è in particolare quello della confessione e qualche cosa di simile. Significa portare le persone davanti a Gesù. Poi il Signore fece il resto. È lui che davvero fa la parte importante. Quei quattro amici conoscevano già il Maestro e la loro speranza era così grande che il miracolo è beluoco alla loro fiducia in Lui. La loro fede supplicce o completa quella del paralitico. Il Vangelo dice che veduta la loro fede, cioè la fede di quegli amici, Gesù operò il miracolo. Avevano vinto ostacoli che parevano insuperabili. Anzitutto convincere il malato. La loro fiducia in Gesù doveva essere assai grande poiché convince solo chi è convinto. Quando gli amici del paralitico giunsero vicino alla casa dove stava Gesù, la trovarono così gremita di gente che sembrava per quella volta non ci fosse più nulla da fare, ma non si arresero. Superarono quell'ostacolo con la loro decisione, con il loro ingegno, con la loro convinzione. contava solo che Gesù e il loro amico si potessero incontrare e perché quell'incontro si realizzasse usarono ogni mezzo. È una grande lezione per l'Apostolato cui siamo tenuti come cristiani. Anche noi incontreremo senza dubbio resistenze più o meno forti. La nostra missione consiste fondamentalmente nel porre i nostri amici di fronte a Gesù e lasciarli davanti a Lui e sparire. Chi può trasformare il cuore di una persona se non il Signore è solo Lui? L'Apostolato si svolge nell'ordine della grazia e del soprannaturale. Forse talvolta è per colpa nostra che altri non si avvicinano a Dio perché da soli ne sono come incapaci. Questo paralitico spiega San Tommaso è il simbolo del peccatore che giace nel peccato. Così come il paralitico non può muoversi ugualmente il peccatore non può contare su se stesso. Quelli che portano il paralitico rappresentano coloro che con i loro consigli conducono il peccatore a Dio. Se abbiamo fiducia in Dio potremmo superare con iniziativa anche umane gli ostacoli in un modo o nell'altro che si presentano sempre in ogni impresa apostolica. Il Signore fu colpito positivamente dall'audacia di quei quattro amici che non si erano ritratti davanti alle prime difficoltà. Ne avevano rimandato il tutto a un'occasione più opportuna perché non sapevano quando Gesù sarebbe passata ancora una volta così vicino. Il Signore guarda quel malato e con immensa pietà e gli rivolge alcune parole che meravigliano tutti. Uomo i tuoi peccati ti sono rimessi. Quando Davide peccò e andò a gettarsi ai piedi del profeta Nathan questi gli disse il Signore ha perdonato il tuo peccato. Era Dio che lo aveva ha perdonato. Nathan si era limitato a trasmettere il messaggio che restituì a Davide la gioia e lo scopo della vita. Gesù invece perdona nel proprio nome. Questo scandalizza gli scrivi presenti. Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio soltanto? Il Signore che legge i pensieri di tutti volle però lasciare ben chiaro anche quelli che come noi avrebbero meditato questa scena dopo secoli che Egli ha ogni potere in cielo e in terra perché Dio ha anche il potere di perdonare i peccati. La susseguente guarigione del paralitico che si alzò prese il suo lettuccio e se ne andò a caso con le sue gambe glorificando Dio era la prova che Gesù gli aveva perdonato davvero i peccati. L'innegabile guarigione del paralitico fu segno dell'invisibile guarigione spirituale. Guarendolo Gesù gli perdona i peccati. Nell'episodio Gesù si manifesta come Dio che ha il potere di perdonare. Un tale potere di perdonare i peccati fu trasmesso dal Signore alla sua Chiesa nelle persone degli Apostoli affinché la Chiesa stessa per mezzo dei sacerdoti potesse esercitarlo sino alla fine dei tempi. Ricevete lo Spirito Santo dice Gesù agli Apostoli a chi rimetterete i peccati chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Sacerdoti esercitano il potere del perdono dei peccati non per virtù propria ma in nome di Cristo come strumenti nelle mani del Signore. Solo Dio può perdonare i peccati e ha voluto farlo nel sacramento della confessione attraverso i Suoi ministri i sacerdoti abbiamo bisogno di frequentare questo sacramento perché il perdono di Dio è un'autentica rigenerazione e restaurazione dell'anima in questo secondo battesimo come i padri della Chiesa chiamano il sacramento della confessione ci fa rinascere sempre di nuovo alla condizione di Suoi figli attraverso il dono dello Spirito Santo in Gesù ascoltiamo oggi il richiamo del Signore alla conversione e lasciamo operare Dio che è capace di far scaturire acque nel deserto e torrenti nella steppa sia lodato Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti